dubbio. Professore, ricordiamo a casa le regole di base. Cosa dobbiamo o non dobbiamo fare? Queste sono regole che bisogna applicare sempre ogni volta che abbiamo una stagione, tipo una stagione influenzale. Bisogna avere la cosiddetta etichetta respiratoria. Quando si starnutisce o si tossisce bisogna farlo così, nella piega del gomito. Non bisogna starnutire in mano, altrimenti con le mani tocchiamo dappertutto, tocchiamo anche, stringiamo la mano agli altri e diffondiamo il contagio. Le mascherine servono solo se c'è stata un'indicazione medica, cioè se c'è stato un medico che vi dice mettetevi le mascherine perché per esempio siete una persona potenzialmente a rischio e potete contagiare i vostri familiari, le usate, altrimenti la mascherina non serve. Serve invece lavarsi le mani e laddove non è possibile, non si ha a disposizione acqua e sapone, la famosa boccettina di alcol gel può funzionare. Grazie professore, grazie davvero. A proposito però delle mascherine.